Abbiamo portato questa nuovissima serie di canne da feeder, la Skyline, questa è la versione più potente che è una 14 piedi 120 grammi, 3 pezzi. Questa serie è composta da 3 canne in 2 pezzi, una 10, una 11 e una 12 piedi con azione tipicamente inglese molto morbida e una serie è composta da 5 canne in 3 pezzi, 2 360, 2 390 e 1 420 con azioni di casting diverse adatte perfette alla pesca a feeder nelle acque italiane. Grazie a tutti.